Lei mi dice di che si tratta, io le regalo un poster di una grande attrice. Ma, per favore, sei diventato matto, cosa ti salta in me? Grazie, non mi serve, con le mie facoltà posso vedere tutte le donne che voglio, bionde e brune. Ho solo l'imbarazzo della circo. Insomma, volete smetterla? E non senta segno che le facessi dare un bacio meno da una donna in carne ed ossa. Vuoi, vuoi farlo da figlio? Ah, nessun problema. Mi è andata bene, è uguale a genio, ottime pure per le donne. Eh?